Ciao a tutti, oggi non sto andando al cinema quindi non vi farò la recensione di un film però fra circa un mese, ormai manca poco, uscirà nelle sale Infinity War, Avengers Infinity War e l'altro giorno hanno rilasciato il trailer ufficiale e quindi è bene arrivare preparati a questo film che è un evento epocale nella storia del Marvel Cinematic Universe Come si può arrivare preparati a questo film? Bene, il film come spero sappiate, se non lo sapete ve lo dico io avrà come centro appunto come cattivo, il cattivo per eccellenza, Thanos che l'abbiamo già visto in alcuni dei film passati in qualche comparsa, in qualche finale di film, qualche scena finale e quindi sarà lui il cattivo per eccellenza, appunto Thanos, un titano il temibile protagonista negativo di questo film Thanos arriva sulla Terra per impossessarsi delle gemme dell'infinito da mettere sul suo guanto dell'infinito così da poter dominare l'universo e pensate che nei fumetti Thanos quando riesce a conquistare tutte le gemme dell'infinito e le mette sul suo guanto distrugge metà l'universo semplicemente con lo schioccare delle dita da quando lo conosco ha sempre avuto un obiettivo cancellare mezzo universo se prenderà le gemme dell'infinito lo farà schioccando le dita proprio così ridimmi come si chiama Tony, ho detto si chiama Thanos fai attenzione per favore quindi per arrivare preparati bisogna sapere dove si trovano queste gemme dell'infinito che abbiamo visto comparire nei vari film dell'universo Marvel fino adesso i 18 film che abbiamo visto fino ad oggi dal primo Iron Man fino all'ultimo Black Panther quindi cominciamo vedendo dove sono queste 6 gemme dell'infinito cominciamo dalla prima la prima è la gemma blu la gemma dello spazio è la protagonista del film Avengers la prima pietra che vediamo a comparire nell'universo Marvel tutte le gemme sono così potenti che non possono essere toccate direttamente dagli uomini e quindi ci sono sempre degli oggetti che le contengono comunque si usano per maneggiarle per quanto riguarda la gemma dello spazio si trova all'interno del Tesseract quell'oggetto che poi Lucky utilizzerà per aprire il barco spaziale da cui arriveranno i Ketauri nella battaglia di New York in Avengers appunto che fine ha fatto questo Tesseract? dopo la sconfitta di Lucky e di Ketauri viene preso da Thor per essere custodito su Asgard però come sappiamo in Thor Ragnarok Asgard è stata distrutta diciamo è scomparsa quindi dove si trova il Tesseract? se vi ricordate bene nelle ultime scene di Thor Ragnarok mentre Lucky corre nelle segrete per dare vita al Ragnarok appunto che distruggerà Asgard si ferma un attimo passando davanti al Tesseract e non volete che Lucky lo abbia preso? quasi certamente quindi il Tesseract adesso è in possesso di Lucky e probabilmente come vediamo anche nella scena finale di Thor di Thor Ragnarok e Thanos arriva con la sua nave proprio a intercettare la nave di Asgard per impossessarsi del Tesseract però ripeto questa è una supposizione la cosa certa che sappiamo è che il Tesseract si trovava nelle segrete di Asgard custodito fino al momento del Ragnarok scatenato da Lucky questa è la prima gemma la seconda gemma dell'infinito invece è la gemma rossa la gemma della realtà che a differenza della gemma dello spazio anziché creare varchi nello spazio appunto serve a creare portali attraverso le realtà finché fino a fondere tutte le realtà interdimensionali in un'unica la vediamo all'opera in Thor Dark World è una gemma particolare perché in realtà poi ha una sorta nel film si vede una sorta di forma liquida non ha una forma una forma di una vera e propria gemma ed è quella che poi risveglia anche gli Elfi Oscuri contro cui combatterà Thor che fine fa dopo la sconfitta degli Elfi Oscuri da parte di Thor l'Ether che contiene appunto la gemma della realtà viene presa dagli Asgardiani e portata al collezionista perché viene proprio detto nella scena finale di Thor Dark World non è saggio custodire nello stesso posto due gemme dell'infinito peccato che poi il collezionista diciamo venendo la gemma della realtà vorrà come Thanos poi in seguito possederle tutte e quindi si metterà alla caccia di quella che è la terza gemma dell'infinito che compare nell'universo Marvel ovvero la gemma del potere quella viola la gemma viola la gemma del potere è contenuta all'interno di un oggetto sferico metallico chiamato Orb perché appunto come gli altri tutte le altre gemme non possono essere toccate da da umani da comunque esseri inferiore diciamo così e l'Orb viene ritrovato dopo millenni probabilmente da Star Lord Peter Quill su un pianeta sperduto ed è protagonista del film Guardiani della Galassia alla fine di tutte le vicissidutili del film ricordiamo che l'Orb dopo che i Guardiani della Galassia sono riusciti a utilizzarne il potere tenendolo fra le mani grazie a a Peter che diciamo ha aveva perché dopo Guardiani della Galassia 2 non ha più i poteri da celestiale da questo essere onnipotente e grazie a questo potere della gemma viola riescono a uccidere Ronan e quindi a salvare l'universo e che fine fa l'Orb l'Orb con all'interno la gemma del potere viene custodita viene data in custodia alla nuova corpse e viene custodita adesso su Xander quindi al momento si trova su Xander la quarta gemma è la gemma dell'infinito gialla la gemma della mente e la vediamo diciamo nei film protagonista in parte di Avengers 2 e Joe Fultron infatti la gemma dell'infinito era contenuta all'interno dello scettro di Loki a cui era stato donato Veki Tau quindi in un certo momento Loki ha posseduto ben due gemme dell'infinito a sua insaputa purtroppo nonostante diciamo la sua astuzia aveva due gemme dell'infinito e non lo sapeva lo scettro dopo che Loki fu catturato e quindi dopo i fatti di Avengers era stato dato allo SHIELD per essere custodito dopo che lo SHIELD si è sciolto in seguito ai fatti di Capitano America Winter Soldiers lo scettro è finito in Socovia che da dove parte appunto la narrazione di Age of Ultron e tramite le sue le sue facoltà le sue capacità e alcuni esperimenti Scarlet riceve i poteri mentali e telecinetici e Quicksilver riceve appunto la velocità Quicksilver poi morirà alla fine di giro Age of Ultron Scarlet è ancora fra noi dopo che appunto gli Avengers recuperano lo scettro da Socovia e Banner e Tony Stark che lo analizzano e alla fine diciamo verrà rubato da Ultron e con la gemma dell'infinito contenuta al suo interno dopo appunto i fatti del film Avengers 2 prenderà vita visione infatti appunto la gemma dell'infinito è quella gemma incastonata sulla fronte di visione e quindi la gemma dell'infinito gialla adesso si trova sulla terra custodita all'interno di visione quindi questa è la quarta gemma dell'infinito la quinta gemma dell'infinito è la gemma verde è la gemma del tempo la gemma del tempo la vediamo diciamo in parte comunque la vediamo ne vediamo sfruttate i poteri in Doctor Strange infatti è contenuta all'interno dell'occhio di Agamotto quel medaglione che poi utilizza Strange per manipolare il tempo e riuscire ad avere la meglio su Dormammu quindi attualmente la gemma dell'infinito verde è custodita sempre sulla terra nel tempio di Camartage dove appunto c'è il Doctor Strange che la custodisce ma in parte la utilizza anche la sesta e ultima gemma dell'infinito è la gemma arancione la gemma dell'anima dove si trova questa gemma questa è l'unica gemma di cui non abbiamo traccia ancora nel Marvel Cinematic Universe molti pensavano che si avrebbero avuto notizie in Thor Ragnarok o in Black Panther ma come potete immaginare come avete visto non c'è traccia neanche in questi in questi due film a meno di easter egg non ancora scoperti da nessuno ma per come sono gli appassionati del Marvel Cinematic Universe la vedo difficile quindi al momento ci sono solo ipotesi io ve le dico non vi spoilero perché comunque sono sempre diciamo così ipotesi dei vari appassionati e quindi magari per come sono le menti malefiche degli sceneggiatori Marvel non sarà una di queste però vi dico le due ipotesi più accreditate che ho trovato cercando un po' così sul web fra i vari rumors una è che la gemma dell'infinito arancione si trovi in Wakanda si è arrivata con il meteorite di Vibranio e si trovi lì magari è proprio quella gemma che dà il potere quel potere particolare ai fiori da cui poi nascono i poteri di Black Panther e poi anche fatto l'indizio che Thanos dal trailer si vede che arriva proprio in Wakanda perché non lo sappiamo questa è una delle ipotesi l'altra ipotesi invece è che la gemma dell'anima ce l'abbia in qualche modo nel cuore o comunque custodita il custode di Asgard diciamo Emdal colui che guarda appunto riesce a guardare chiunque tutti gli asgardiani e che in Thor permetteva l'accesso ad Asgard tramite il ponte però anche questa è un'ipotesi l'ipotesi nasce oltre al fatto che comunque Emdal riesce a guardare tutti gli esseri umani ovunque tutti gli esseri viventi e quindi il fatto che sia la gemma dell'anima a potergli dare questo potere è un'ipotesi inoltre c'è anche la teoria dell'acronimo cioè se mettete insieme tutti gli oggetti che custodiscono le gemme dell'infinito si crea l'acronimo Thanos fra tutti gli oggetti nominati manca un oggetto che inizia con la H e quindi l'unico è Emdal bene vi ho detto dove si trovano tutte o quasi le gemme dell'infinito e quindi non resta che per sapere come andranno i fatti aspettare il il film l'uscita nelle sale di Avengers Infinity War quello che sappiamo di certo è che questo film sarà una strage in molti cadranno saranno molti purtroppo gli Avengers supereroi che cadranno quindi se avete un supereroe preferito sperate che non sia fra quelli che che ci lasceranno comunque sia la cosa certa è che sarà un sicuramente un punto di svolta che stravolgerà il Marvel Cinematic Universe che comunque continuerà perché abbiamo già sappiamo le altre uscite per i prossimi anni quindi ce ne sarà ancora di carne al fuoco vi lascio con una chicca per ribadire le menti malate degli sceneggiatori degli sceneggiatori Marvel abbiamo traccia di un guanto dell'infinito già in Tor 1 vi faccio vedere una scena ad Asgard nelle segrete tra gli altri oggetti è custodito anche un guanto dell'infinito non sappiamo però se è quello che possiede Thanos e che diciamo utilizzerà per poi raccogliere il regime dell'infinito oppure è un altro guanto visto che di solito i guanti vanno a paia e magari sarà un guanto che può aver utilizzato dagli Avengers per sconfiggere Thanos non sappiamo la risposta probabilmente l'avremo anche oltre Avengers Infinity War ma magari in Avengers 4 grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao ciao